Ad Acicateno ormai è corsa contro il tempo per il bilancio di previsione. Domani il sindaco Ascenzio Maesano incontrerà il responsabile del servizio tributi per mettere a punto tutto quello che concerne la IUC, l'imposta unica comunale. In base alle cartelle che arriveranno ai contribuenti si potranno inserire le entrate da mettere nello strumento finanziario che Maesano vorrebbe portare in discussione in giunta entro dieci giorni. Anche se il consiglio comunale prima di concentrarsi sul previsionale deve espletare ancora gli atti propedeutici. Già nella giornata di domani infatti la quarta commissione dovrebbe dare il proprio parere sugli emendamenti al piano triennale delle opere pubbliche che potrebbe essere deliberato dal consiglio comunale venerdì prossimo 20 giugno. Grazie a tutti.